Gentili telespettatori, buona giornata. Niente faccia a faccia in tv per Ellicoretta e Giorgia Meloni. Viola la par condicio, cioè le pari opportunità che dovrebbero avere tutti i politici. Così decide l'autorità per la par condicio. Dovranno rinunciare a sfidarsi dialetticamente in tv il 23 settembre a due giorni dalle elezioni politiche in programma il 25. I due leader di Fratelli d'Italia e Partito Democratico avevano trovato l'intesa per un confronto nello studio di porta a porta con la conduzione di Bruno Vespa. Ma a bloccare tutto è arrivata la Gcom. La notizia, riferisce il giornale, aveva scatenato le proteste di Carlo Calenda che aveva parlato di accordo a lume di Candela e la ribellione contro la RAI di Giuseppe Conte e della coppia rosso-verde frato Gianni Bonelli. Nel pomeriggio di ieri l'autorità per le telecomunicazioni si pronuncerà sui criteri della par condicio in campagna elettorale. Ma è già chiaro, dopo la prima nota emessa, che l'orientamento è quello di proibire il testa a testa diretto tra due maggiori leader della politica. Si rischia, dicono, di violare le regole dell'equità in vista del voto. La legge elettorale, fanno notare gli esperti, non prevede l'esistenza giuridica delle coalizioni, che potrebbe giustificare il match diretto tra i loro leader ed eventuali candidati premier. Dunque, i confronti televisivi devono riguardare tutti i partiti a condizione di parità, quanto filtra dalle colonne del quotidiano. Pertanto, anche il partitino da 0, qualcosa avrebbe diritto ad avere un confronto con tutti gli altri. Quindi, non so, anche il partito di Di Maio, che non mi ricordo neanche come si chiama, che è valore 1%, dovrebbe, per par conticio, confrontarsi col PD, dovrebbe confrontarsi con Forza Italia, con la Lega. Immaginate che, secondo la par conticio, dovrebbero esserci 24 ore al giorno, su tutte le tre reti RAI, da qui al 26, per garantire la par conticio. Cioè, ogni partito deve confrontarsi con tutti gli altri, un po' come una sorta di girone, di preselezione per i mondiali, dove tu devi andare a gareggiare con tutti. Quindi, ogni partito deve gareggiare con tutti gli altri partiti, però allo stesso orario, perché se tu metti uno all'una di notte, uno alle otto di sera, capite che c'è uno svantaggio. Pertanto, tutti i partiti devono confrontarsi con tutti a un orario uguale per tutti. Probabilmente non è sufficiente da qui al 25 di settembre, ci vorrebbe tipo un anno e mezzo, perché se i partiti sono 101 depositati, immaginatevi che ogni sera ognuno di questi partiti deve confrontarsi con gli altri 100. Poi il secondo partito si deve confrontare con tutti gli altri 100, ci vogliono almeno 100 giorni. Almeno 100 giorni, dove ad esempio il partito di Di Maio si confronta con tutti gli altri 100 partiti. Ovviamente poi dovrebbe esserci poi anche, vabbè, insomma, sono molto di più di tre mesi, ci vuole una vita. Pertanto non so come potranno adesso, perché la Gcom deve mettere le sue regole per la par condicio e allora i confronti tv non si possono fare. Oppure la Gcom dice per fare il confronto tv devi avere più del 5%, non lo so. Perché così allo stato attuale dei fatti, per come ragiona l'autorità per le comunicazioni, a questo punto se tutti hanno pari dignità televisiva, un partito da 0,2%, uno dal 25%, allora i confronti televisivi non possono esistere in Italia. Ma non potrà neanche esistere allora quello sul Corriere della Sera? Sapete che sul Corriere della Sera il 12 di settembre, se non sbaglio, era previsto un confronto Letta-Meloni. Anche quello è possibile o la Gcom interviene anche sui giornali? Non lo so. Naturalmente non si può fare neanche quello che aveva previsto sulla sette, mentana. Perché la Gcom, l'autorità per le comunicazioni, si riferisce anche ovviamente alla televisione private. Naturalmente il Corriere della Sera non fa un confronto cartaceo. Non è come nei film di Harry Potter dove il giornale si anima e voi vedete... Ecco, lì il confronto, per esempio, del Corriere della Sera sarebbe in Internet. E voi sapete che Internet è un po' terra di nessuno, dove par condicio in politica o silenzio elettorale non esiste sui social. Quindi, per esempio, il silenzio elettorale c'è sui giornali, c'è sulle televisioni, ma poi in Internet, che ha superato di gran lunga la televisione, la gente guarda di più Internet che la televisione, lì non c'è nessun silenzio elettorale. Poi, anche se dovesse esserci, risulta veramente difficoltoso riuscire a controllare tutto Internet, perché voi potete utilizzare social network, potete utilizzare dei siti personali per fare un confronto televisivo. Insomma, in Internet è ancora terra di nessuno. Quindi vedrete che quando ci sarà il silenzio elettorale, tutti i leader politici commenteranno e faranno 100 post al minuto su Internet, perché lì non c'è nessuna restrizione. Un giorno magari arriveranno anche lì, arriverà una... Poi capite che i social sono gestiti da società straniere. Insomma, è abbastanza difficile questo. Io intanto vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti e poi vi dico che c'è anche l'altro canale che si chiama Tele Italia Seconda Rete, che si trova sempre qui su YouTube, nel quale ci sono video di politica, di notizie, di fai da te. Poi questi video sono condivisi dopo qualche ora nella pagina di Facebook che si chiama Tele Italia, dove trovate poi tutti questi video condivisi. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Arrivederci e grazie.